Intanto partirei con l'introduzione, se per Gabriele va bene naturalmente. Sì, sì, benissimo. Grazie. Grazie Virgilio a tutti e tutte questo webinar. L'Associazione Italiana di Valutazione anche per quest'anno ha ritenuto di dare spazio al dibattito dei gruppi tematici. L'associazione, come sapete, è un po' l'ombrello e la casa delle persone che si occupano di valutazione nel nostro paese, che lavorino dentro l'accademia o dentro società specializzate o come liberi professionisti o nella pubblica amministrazione. E siamo organizzati in gruppi tematici, ciascuno dei quali prende e sviluppa, tematicamente, uno dei possibili rivoli attraverso i quali la ricerca valutativa procede. Il gruppo tematico Progetti Europei oggi ha offerto all'associazione questa occasione di discutere della PAC, della valutazione della PAC, della nuova PAC. Come questo gruppo tematico, in seguito ci saranno altri gruppi tematici che offriranno analoghi contributi e analoghi occasioni. Pertanto stiamo per pubblicare sul sito il calendario complessivo, sono sei o sette occasioni, occasioni molto importanti. Occasioni di stimolo, occasioni di incontro, occasioni di aggiornamento, di cui l'associazione vive, vive del nutrimento che queste occasioni possono portare e che poi potranno essere diffuse, come diceva prima Virgilio, attraverso la registrazione, la pubblicazione delle registrazioni su un sito dell'associazione, ma potrebbero anche generare ulteriori approfondimenti, anche nella forma scritta, perché abbiamo una rivista, la Rassegna Italiana di Valutazione, all'interno della quale i contributi scientifici possono trovare ospitalità. Abbiamo una collana editoriale presso la casa editrice Franco Angeli, che può ospitare riflessioni come quelle che maturano anche in queste occasioni. E poi abbiamo un congresso che si svolgerà in autunno, ad ottobre, nel quale appunto i gruppi tematici potranno offrire ulteriori sviluppi della discussione. Quindi io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, ringrazio in particolare gli organizzatori, quindi ringrazio in particolare i coordinatori del gruppo di lavoro tematico e le persone che oggi interverranno. Quindi dapprima il coordinatore, Virgilio Buscemi, che è anche coordinatore, co-coordinatore del gruppo tematico, poi Simona Cristiano, Francesca Antilici, Eugenio Corazza e poi gli interventi di Paola Paris, Fabrizio Tenna e Vincenzo Fucilli. Ringrazio davvero e ricordo però, questo mi compete e lo devo fare in questo momento, che tutti questi interventi sono possibili grazie all'associazione e alla sopravvivenza dell'associazione, che dipende dalle associazioni, dalle associature. Quindi invito tutti i presenti a pensare, a riflettere, se poter dare un contributo all'associazione aderendo. L'adesione, diventare soci consente ovviamente di partecipare al congresso, consente di ricevere la rivista, la rassegna italiana di valutazione, consente di partecipare attivamente alla vita dei gruppi tematici e anche di indirizzare il dibattito. Pertanto, appunto, trovate tutte le informazioni sul sito, c'è una procedura molto semplice e in questo modo appunto rafforzeremo per quest'anno e per l'anno prossimo le nostre attività. Grazie ancora a tutti, a numerosissime persone che hanno partecipato, che stanno partecipando, e passo la parola a Virgilio. Io mi spengo ma non esco di scena. Grazie. Grazie Gabriele, grazie del saluto, grazie anche di aver partecipato, quindi insomma la partecipazione a questo webinar è numerosa, quindi siamo contenti di aver riscosso un sufficiente interesse. Ribadisco anche quello che hai detto tu, nel senso che appunto noi da tanti anni facciamo parte dell'associazione italiana di valutazione ed è un luogo in cui noi valutatori, oggi siamo presenti sostanzialmente i valutatori, c'è anche qualche pubblica amministrazione, siamo contenti che ci sia anche per un dibattito, come dire, più plurale. Però, come dire, volevo ribadire questo fatto che è importante associarsi all'associazione italiana di valutazione perché, come dire, a di là del costo irrisorio, però è un momento in cui possiamo riflettere, discutere, orientare anche le politiche, che è la governance della valutazione in Italia, quindi siamo contenti di starci e di lavorare e speriamo che appunto di diventare sempre più numerosi perché più stiamo, come dire, ad essere anche influenti rispetto a come funziona il mondo e quindi anche ad essere utili. Allora, io ho il compito di fare una brevissima introduzione, quindi cercherò di essere il più breve possibile perché sono contento che ci siano tre... C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Ok. Sono contento che ci siano tre interventi introduttivi, quello di Simona Cristiano che da tanti anni lavora all'Alcrea e diciamo alla Rete Rurale Nazionale per alimentare la cultura della valutazione in temi di sviluppo rurale e di PAC e quindi ci farà un'introduzione su a che punto sarà la nuova programmazione. Poi ci sarà l'intervento di Francesca Antilici che invece è responsabile dell'area valutazione in Cogea e adesso lavora anche sullo sviluppo rurale, però in passato ha lavorato molto sul primo pilastro e quindi è importante il suo punto di vista e la sua esperienza. Poi ci sarà Eugenio Corazza che invece è il presidente responsabile dell'area valutazione di ISRI e lavora in maniera molto intensa in questa programmazione sulle valutazioni dello sviluppo rurale e quindi ci potrà dare un punto di vista molto interessante. Io appunto immagino che questo è un incontro per addetti ai lavori, quindi siamo tutti in qualche modo esperti di valutazione della PAC, siamo esperti di PAC. Magari dico due parole di contesto per chi non lo fosse in modo a beneficio di tutti per non lasciare nessuno indietro, direi che noi siamo in un momento, abbiamo deciso di organizzare questo webinar con un po' di fretta diciamo perché volevamo essere tempestivi, questo momento di riflessione a livello nazionale su come orientare il futuro della PAC e anche quindi il futuro della valutazione della PAC. Come penso voi tutti sappiate abbiamo un prolungamento della programmazione 14-20 che è diventata 14-22, quindi abbiamo due anni di prolungamento e sostanzialmente questa programmazione terminerà nel 2025. però nel 2023 comincerà il nuovo ciclo di programmazione, quindi la PAC 2023-2027. Quindi questi mesi sono i mesi in cui si sta, si va verso la chiusura alla programmazione vecchia però si sta definendo la nuova programmazione e come ritengo voi tutti sappiate la nuova programmazione dal punto di vista del quadro regolativo opera una sorta di, possiamo definire, l'evoluzione copernicana, come sapete questa espressione è stata usata, è stata resa da Kant che la usa quando cambia il paradigma della filosofia in quel caso, dello studio della realtà e riporta il punto di osservazione all'osservatore e non alla realtà appunto come era invece nella filosofia a lui precedente. E in qualche modo qui cambia il punto di osservazione perché mentre prima il centro della PAC erano le regioni adesso in qualche modo il coordinamento passa al ministero anche se le regioni mantengono dal punto di vista costituzionale la responsabilità sugli interventi dello sviluppo rurale. Però il coordinamento, l'autorità di gestione del programma nuovo che sarà unico e sarà nazionale passa al ministero. Questo cambia l'assetto comunque radicalmente, l'assetto della governance che deve essere ripata, devono essere ripensati gli strumenti e quindi anche la valutazione deve in qualche modo riflettere su qual è il suo ruolo e il suo futuro e anche il suo campo di azione, il suo perimetro di azione nella programmazione 23-27. E quindi adesso è il momento per noi valutatori di riflettere su questo, ci sono stati anche degli incontri tra le amministrazioni, le autorità di gestione per cominciare a riflettere su che contributo può dare la valutazione e a che livello deve essere operata. Ce ne parlerà adesso Simona, quindi non mi soffermo. È importante appunto definire degli scenari possibili per capire quali sono i pro e i contro. E quindi oggi speriamo vengano fuori degli spunti che possiamo lasciare al dibattito dei decisori in qualche modo e questo è anche il nostro mestiere, quello di capire quali sono le prospettive e dare indicazioni e indirizzi. E diciamo sono contento che appunto Francesca e Eugenio, a parte Simona che farà l'intervento introduttivo, hanno accettato diciamo questo invito a mettere a disposizione della comunicazione esperienza perché è un, come dicevo, un momento molto fluido, quindi come dire, ci può essere anche un po' di remora a dire che cosa posso dire sul futuro. Però noi sappiamo come valutatori che si impara dal passato, come diceva Enrico Levi, un uomo senza memoria è un uomo senza storia, un uomo senza futuro, quindi vogliamo capire che è stato in questi anni, cosa abbiamo imparato sul primo pilastro, sul secondo pilastro, sul nostro lavoro per cercare di dare qualche spunto a chi dovrà decidere su come configurare la valutazione della PAC nel 23-27. Sono contento che mi pare di aver visto tra i partecipanti anche alcuni che fanno parte del gruppo di lavoro che si occupa della valutazione ex ante della nuova PAC, quindi della PAC 23-27, perché appunto anche loro stanno lavorando proprio in queste settimane, in questi giorni, a redigere la valutazione ex ante in cui, come sapete, si discute, si dà anche qualche indicazione sulla governance. In qualche modo mi piacerebbe, concludo, che da questo dibattito, grazie anche al contributo di tutti, siamo adesso 45 e siamo quasi tutti valutatori, possiamo in qualche modo tirar fuori la valutazione che vorremmo per la PAC, quale secondo noi dovrebbe essere e quale è dare anche degli elementi concreti alle amministrazioni per orientarsi in questo percorso. Naturalmente, sapete, perché siamo, insomma, noi valutatori ci crediamo veramente che noi possiamo, se lavoriamo bene, possiamo essere utili, possiamo migliorare l'efficacia delle politiche, possiamo soprattutto lavorare per una trasparenza della pubblica amministrazione e degli investimenti pubblici, aumentando la partecipazione che può, in qualche modo, così, con un po' di ambizione, migliorare anche il nostro paese nel suo insieme. Quindi mi taccio, lascio la parola a Simona che ci fa un quadro dello stato dell'arte, perché lei è quella che più di tutti sa, diciamo, a che punto siamo, a che punto è la riflessione, anche se ancora alcuni elementi sono indeterminati. Grazie Virgilio, ringrazio tutti i partecipanti a questa giornata, appunto, che spero sia molto interessante per tutti quanti, ma soprattutto lo sarà perché è veramente un luogo di discussione adesso sul futuro della valutazione in Italia per quanto riguarda la PAC. Allora, io ho fatto una brevissima presentazione e, ecco, spero che la vediate. Virgilio, se mi vuoi confermare... Sì, la vediamo, la vediamo, se la metti in... No, 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 eccola, ok, benissimo. Sì, come diceva Virgilio, la mia intenzione è quella di fare il punto, insomma, su come organizzata siamo con gli atti regolatori e regolamentari e implementativi, diciamo, della valutazione, innanzitutto per chi non è addentro poi alla PAC, perché vedo anche partecipanti di altre politiche, questo è molto interessante, di fatto con soltanto una contestualizzazione, in qualche modo, ecco, della valutazione della PAC. Noi abbiamo in questo periodo di programmazione, evidentemente, ecco, un piano strategico della PAC che di fatto racchiude a livello nazionale, ma direi, ecco, non nazionalizzato, anzi, gli interventi poi verranno realizzati in maniera concertata sia su livello nazionale e territoriale, però diciamo, è un'unica strategia di livello, nazionale che avrà una sua identificazione con Italia per la Commissione Europea, include il primo e il secondo pilastro della PAC, novità rispetto, evidentemente, allo scorso periodo, agli altri periodi di programmazione, orientato a raggiungere con nove obiettivi specifici della PAC più uno che è quello della modernizzazione che invece è trasversale, diciamo, alla PAC, caratterizzato, peraltro, da un periodo di programmazione breve, perché sarà un periodo di programmazione che appunto riguarderà il 2023-2027, quindi piuttosto breve rispetto invece a quelli precedenti, caratterizzato poi dal cosiddetto new delivery model, cioè un modello di implementazione dei piani strategici della PAC negli Stati membri che, secondo la Commissione Europea, dovrebbero rispondere a principi di flessibilità e sussidiarietà, per cui fondamentalmente, ecco, il delivery, ecco, dei piani strategici è lasciato completamente allo Stato membro, alla definizione, ecco, all'interno allo Stato membro, pur comunque concertando, ecco, con la Commissione Europea, tra l'altro anche per alcuni aspetti che riguarderanno la valutazione, vedremo anche in maniera bilaterale, non con elementi comuni, ecco, concertando, diciamo, questo modello di delivery insieme alla Commissione Europea, soltanto per garantire che poi, come dire, tutto quanto sia organizzato in modo da garantire l'effettivo raggiungimento, ecco, delle performance attese. E performance è un altro concetto fondamentale del new delivery model e dei piani strategici della PAC, c'è evidentemente, ecco, in questo passaggio del new delivery, c'è un maggior orientamento ai risultati, alle performance dei piani strategici della PAC degli Stati membri, piuttosto che l'essere, invece, compliance rispetto a determinate regole comuni, ecco, regolamentari o degli atti implementativi. Quindi, orientamento, ecco, ai risultati, alle performance verifica, evidentemente, del progresso, ecco, dei piani strategici della PAC durante il periodo di implementazione, fino, evidentemente, poi alla valutazione ex ante. Diciamo, questo è il contesto nel quale collochiamo la valutazione dei piani strategici della PAC, dal punto di vista della politica e delle strategie della PAC. Come è organizzata, ecco, invece, quali sono i riferimenti regolamentari e implementativi, ecco, della PAC? Innanzitutto, noi abbiamo un regolamento UE, che è il 2015 e il 2021, che ormai è finalmente approvato, con un titolo, il titolo settimo, che è dedicato, con questa volta, a monitoraggio, rendicontazione e valutazione. Però, ecco, in questa articolazione, di fatto, c'è un'unitarietà, ma c'è anche una chiara delimitazione, diciamo, ecco, dei, degli ambiti, eh, di attuazione, di monitoraggio, rendicontazione e valutazione. Abbiamo un capoprimo, che riguarda, appunto, il quadro di riferimento per l'efficacia, eh, dell'attuazione. Il cosiddetto PMEF, che è il quadro di rendicontazione e valutazione dovranno essere, eh, attivate, attuate, da parte, ecco, dallo Stato membro. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, che praticamente riguardano il monitoraggio, e poi, ecco, la valutazione del piano strategico della PAC, che ha quindi una sua, mh, ben allocata, identificazione, ecco, abbastanza distinta, poi, da quelle che riguardano gli adempimenti in materia di rendicontazione e di monitoraggio di qui sopra. In corso, oggi proprio, perché poi, peraltro, oggi proprio c'è un incontro con la Commissione europea, uno di quelli ricorrenti, ormai, ecco, del gruppo europeo di esperti in materia di monitoraggio e valutazione, eh, si sta discutendo, ecco, quello che è l'atto implementativo, eh, che riguarderà, appunto, l'intero, eh, framework, l'intero quadro di monitoraggio e valutazione e rendicontazione, ecco, della PAC, ma soprattutto per la parte, in questo caso, è in corso la discussione sulla parte, eh, degli elementi, ecco, di valutazione comuna. Un atto implementativo che vuole contenere degli elementi comuni per avere un approccio condiviso e strutturato, ecco, noi sappiamo, noi che lavoriamo nella PAC, diciamo che, da tempo, ecco, eh, la Commissione europea ha sempre promosso la condivisione, l'organizzazione condivisa, no, degli elementi che poi, eh, riguardano gli adempimenti da svolgere, ecco, in materia di monitoraggio e di valutazione, eh, intende fare chiarezza, ecco, sui termini di riferimento, diciamo così, ecco, delle valutazioni, intende però dettare delle regole comuni, e, eh, anche di valutazioni che garantiscono la Commissione europea un'aggregazione dei dati e delle informazioni che possono essere acquisite, ecco, dalle valutazioni a livello, eh, europeo, ma a favorire anche lo scambio, ecco, di esperienza e quindi un processo di apprendimento condiviso. Ecco, questi sono tutti obiettivi che da sempre sono stati, come dire, promossi, ecco, dalla Commissione europea attraverso degli atti implementativi che di fatto danno orientamento e guide metodologiche. Quest'atto implementativo in discussione oggi, ma soprattutto, che verrà finalizzato il primo aprile, in un'ulteriore riunione, eh, stato, eh, stato membro, quindi esperti europei di monitoraggio e valutazioni e Commissione europea, verrà finalizzato, perché al momento stiamo dando dei commenti ecotecnici sull'atto che è in corso, che è in discussione, con la pubblicazione prevista per giugno duemila e ventidue, quindi avremo il quadro regolatorio, diciamo, ben definito a giugno duemila e ventidue. Ora, a questo punto, ecco, questa slide di fatto punta ad avere, scusate, ho un'impostazione per cui non vedo il titolo della slide, va bene. E allora, c'è un passaggio, ecco, da quello che era il sistema, ecco, di monitoraggio e di valutazione dei piani della PAC, ecco, nello scorso periodo di programmazione, che poi includeva il cosiddetto CMEF, cioè il framework, il quadro di riferimento specifico, ecco, per i programmi di sviluppo rurale, al CMEF, ecco, il CMEF che cos'è? Sarebbe, appunto, il Performance Monitoring and Evaluation Framework, quindi il quadro di riferimento per il monitoraggio, la valutazione e l'efficacia dell'attuazione della PAC nel corso del periodo di attuazione dei PS, del piano strategico, alla finalità, ecco, di valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, ecco, sono tutti i criteri, diciamo, le dotazioni che vengono proposte, ecco, dalla regolamentazione comunitaria, in questo caso, appunto, ecco, valutare tutti questi elementi sia della PAC in sé che del piano strategico, ecco, della PAC, quindi a livello di Stato membro, monitorare i progressi compiuti attraverso il raggiungimento dei target finali e intermedi che saranno monitorati in maniera, ecco, sistematicamente annuale, su base annuale, favorire un processo, appunto, di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e valutazione, questa è la finalità che è sempre stata data, diciamo, al monitoraggio e alla valutazione, ecco, dalla Commissione Europea. Cosa comprende, ecco, questo CMEF, questo quadro di monitoraggio e valutazione, ecco, della PAC, comprende un setto di indicatori comuni, output, risultato, impatto e di contesto, un set di target finale e intermedi che verranno, appunto, definiti su base annuale, correlate all'indicatore di risultato, cioè indicatori target e indicatori di risultato, però, stimato, ovviamente, come target, in relazione, ecco, ai pertinenti obiettivi specifici del piano della PAC, prevede, appunto, questo CMEF, la raccolta, le modalità comuni di raccolta e conservazione e trasmissione dei dati, prevede, ecco, il modo in cui bisognerà poi fare le relazioni, ecco, di monitoraggio, quindi le relazioni periodiche sull'efficacia dell'attuazione e sulle attività di valutazione in corso e poi, ecco, quali sono le valutazioni da realizzare nel corso di questo periodo di programmazione. Le valutazioni saranno valutazione ex ante, valutazione ex post, a livello di piano strategico, quindi una sola valutazione ex ante, una sola valutazione ex post per l'Italia, questa volta e questo sicuramente per uno Stato, ecco, come il nostro, è una grande novità e poi ci saranno quelle che potrebbero essere assimilate alle valutazioni during the program attuali, quindi eliminate le valutazioni intermedie e dette in questo periodo di programmazione dei rapporti strategici di monitoraggio, di fatto erano sostanzialmente delle valutazioni intermedie, non ci saranno. Benissimo. Allora, e quindi qual è il quadro, come saranno composte, diciamo, qual è il quadro, diciamo, di definizione, ecco, delle valutazioni del piano strategico della PAC? Avremo evidentemente una valutazione ex ante, lo vedete, sulla vostra destra, una serie di valutazioni during the program, ma bisognerà fare una serie di valutazioni per ogni obiettivo strategico della PAC, più quello, ovviamente, ecco, trasversale, e quindi ci saranno una serie di valutazioni durante il periodo di programmazione, ecco, per ogni obiettivo strategico non viene prescritto il modo in cui questi obiettivi dovranno essere valutati, o meglio, il contributo del piano a questi obiettivi a raggiungimento, ecco, degli obiettivi della PAC verranno, non viene prescritto ecco dalla Commissione Europea come dovranno essere realizzati, tant'è vero che nell'interlocuzione che c'è in questi giorni con la Commissione Europea, con la stessa, ha detto, appunto, ecco, potranno essere delle valutazioni distinte, potrà essere una sola valutazione, potranno essere fatti poi con delle valutazioni in relazione soltanto agli obiettivi che sono più pertinenti per il proprio piano strategico, ecco, della PAC, in relazione all'intervento logico, ecco, di questo. Avremo poi, ecco, la valutazione ex post, due anni successivi, entro i due anni successivi alla data di chiusura, diciamo, del periodo di programmazione. È chiaro che una serie, ecco, di valutazioni, diciamo, dobbiamo capire a livello nazionale, io qui ho lasciato, se saranno una serie di, una sommatoria, ecco, di valutazioni sparse, diciamo, anche a livello regionale, dal momento che le regioni, devo dire, positivamente hanno accolto, ecco, l'idea di fare, di continuare a fare, ecco, valutazioni sui propri interventi, oppure, ecco, dovremmo costruire un sistema coordinato, ecco, di valutazione del piano strategico della PAC o della PAC in generale, ecco, in Italia. Allora, in cui ho voluto fare, di fatto, appunto, l'atto implementativo, spiegare un attimo quali saranno i contenuti di questo atto implementativo, che daranno poi, come dire, delimiteranno, no, le azioni, come dire, l'ambito, ecco, di realizzazione delle azioni di valutazione del piano strategico italiano. Innanzitutto, ecco, questo, l'atto implementativo ha la finalità, appunto, di stabilire gli elementi chiavi, comune alle valutazioni a livello europeo, ecco, garantendo poi un approccio che sia di strutturazione, di organizzazione, ecco, delle valutazioni. È chiaro che noi dobbiamo sempre considerare il fatto che l'Italia è un Stato membro di vecchia data, diciamo, ha ormai organizzato, ecco, la valutazione in un certo modo. Direi che, quantomeno, ecco, sull'organizzazione ci siamo, sulla pianificazione ci siamo, ecco, dobbiamo però fare i conti sempre anche con altri Stati membri che lamentano, ecco, la necessità di avere un'organizzazione anche a livello, ecco, comunitario. E quindi questa finalità viene mantenuta in ogni caso. Poi definire anche ruoli e funzioni, perché evidentemente poi queste valutazioni devono in qualche modo sposarsi, ecco, anche con le valutazioni, con le sintesi e le valutazioni, con le valutazioni che verranno fatte a livello europeo. Quindi definire anche ruoli e funzioni condivise a livello europeo su chi ha la responsabilità di fare che cosa in soldoni, fondamentalmente. Ci sono delle novità, secondo me, abbastanza importanti, che derivano un po' da questo atto implementativo, ma anche dal regolamento e che si possono, appunto, come dire, circoscrivere a questo, cioè la concertazione, la pianificazione, la sorveglianza, che sono tutte quante condivise. Abbiamo un delivery model e quindi, come dire, la Commissione europea nel definire le regole di implementazione ha sicuramente, come dire, sta promuovendo un approccio per il quale a livello nazionale ci sia una forte condivisione, forte concentrazione su quelle che sono quelle valutazioni da realizzare, una pianificazione condivisa e così via. E qui abbiamo il piano delle valutazioni, che non è soltanto più un documento, diciamo così, di rappresentazione delle valutazioni da realizzare, ma diventa proprio un processo di concertazione della domanda valutativa, deve essere definito insieme al comitato di sorveglianza, che lo approva, entro un anno dall'approvazione del piano strategico della PAC, eventuali modifiche devono essere motivate al comitato di sorveglianza, che ancora una volta dovrà approvarlo, quindi è un processo proprio di concertazione. Il comitato di sorveglianza è un organo che diventa proprio di governance collegiale a questo punto, ecco, dei processi valutativi, anche multilivello, se vogliamo, soprattutto nel nostro caso, e peraltro tanto è vero questo, l'importanza del comitato di sorveglianza, c'è tanto è vero che viene anche promossa, come dire, una geometria variabile del comitato di sorveglianza, attraverso l'inclusione di eventuali altri membri che siano necessari in relazione ai vari temi, ai vari topics, diciamo delle valutazioni, che quindi abbiano voce in capitolo nella definizione dei temi delle valutazioni, e poi nella sorveglianza, ecco, del piano di valutazione. Rete PAC, qui anche verranno istituiti a livello europeo, a livello nazionale, a cui sono, secondo me, poi un ruolo cruciale, ancora più fondamentale, perché a loro viene attribuito un compito di supporto e garanzia della partecipazione attiva, nel senso la rete PAC mi deve definire, mi deve fare l'analisi e fa bisogno di capacità, ecco, in materia valutativa, di tutti gli stakeholders che devono partecipare poi a questa concertazione sulla domanda di valutazione, inclusi, ecco, i GAL, devo dire queste cose, ecco, non è che la rete attuale non la stia facendo, ma ancora una volta, noi siamo in un contesto europeo in cui certe cose, magari la rete italiana l'ha sempre fatte, più o meno, e così via, però, ecco, in altri Stati membri possono non esserci state neanche le reti, ecco, a fare cose del genere. E quindi, proprio alla rete PAC viene dato un compito specifico, quello di supportare i stakeholders in maturale, competenze adeguate, capacità di organizzazione di questi processi valutati, e partecipare attivamente alla definizione dei piani di valutazione e alla loro sorveglianza, come pure poi al follow-up, ovviamente, delle valutazioni. Benissimo, dati questi principi, ecco qua, che cosa conterrà quest'atto implementativo? Io qui ho messo dei punti, elenco che di fatto rappresentano i capitoli attualmente in essere con questo atto implementativo. Valutazione, ecco, dei criteri di valutazione, appunto, valutazione dei criteri di valutazione degli obiettivi della PAC, qui ci sono elementi comuni, gli elementi comuni sono l'uso di criteri, ecco, di valutazioni di questi siti valutativi e di criteri di giudizio. I criteri sono quelli normali, efficaci, efficienza, valore aggiunto e così via, però, ecco, poi abbiamo quei siti valutativi e criteri di giudizio che non sono definiti, come erano invece nello scorso periodo, come siamo abituati, ecco, ad avere nello scorso periodo, dai vecchi programmi, diciamo, dei PSR. Quindi, questi siti valutativi, questa volta, non ce ne saranno comuni, ce ne saranno comuni soltanto per la valutazione ex post, pur tuttavia ci saranno degli atti, diciamo, di orientamento, linee guida, per esempio, della rete europea, ecco, della valutazione, che includeranno, appunto, che proporranno dei quesiti valutativi, ecco, che potranno essere o meno utilizzati dagli stativi, dai valutatori, dalle autorità di gestione dei programmi e così via. Dà delle indicazioni sul fatto che, appunto, le domande di valutazione dovranno avere almeno un criterio di giudizio, almeno un indicatore di quelli comuni e così via, ecco, ma sono indicazioni su come organizzare, diciamo così, come strutturare, ecco, la valutazione, non definizioni specifiche, ecco, sui contenuti della valutazione, su come devono essere le valutazioni. C'è poi la promozione, ecco, del fatto che la domanda valutativa deve essere espressa, ovviamente, in relazione alle specifiche esigenze di valutazione e alla logica di intervento del piano strategico della PAC. Il secondo capitolo, valutazione, ecco, durante il periodo di programmazione, abbiamo detto, questi sono gli unici topics, diciamo così, di valutazione che vengono identificati, sono quelli, appunto, questi qui, per ciascun obiettivo della PAC, quindi, i nove più uno, ecco, che devono essere, per cui deve essere valutato il contributo del piano agli obiettivi, a conseguimento agli obiettivi. Ripeto, queste valutazioni possono essere fatte, in posto di attuazione, possono essere fatte per temi, cioè per valutazioni tematiche, oppure una sola valutazione che comprende, ecco, tutti gli obiettivi, oppure ancora, ecco, per, come dire, aree obiettivo, e così via. L'importante, ecco, dice, appunto, è raccogliere informazioni valutative, conoscenza valutative utili al prossimo ciclo di programmazione. Queste valutazioni devono essere fatte sulla base di elementi chiave, ecco, questa è una specifica che sembra un po', ecco, somigliare, appunto, ai criteri di giudizio, però, diciamo, ecco, pone gli elementi chiave che saranno poi alla base di quell'aggregazione a livello europeo delle informazioni di valutazione che verranno restituiti dagli stati membri. Adesso ve ne do un esempio. L'importanza di condurre, ecco, valutazione a livello territoriale, laddove è il caso, ecco, come l'Italia, evidentemente, e poi, ecco, dei topics anche chiave, ecco, di tutto, di tutta la PAC, che sono l'ACIS, l'IDAR, le reti, l'architettura green, che dovranno essere valutati, dovranno essere oggetto di valutazione. Vi do una rappresentazione soltanto di quelli che devono essere gli elementi chiave, ecco, da considerare per ciascun obiettivo della PAC, per esempio. Ecco, questo è uno, per esempio, sull'obiettivo specifico 7, che apparre e sostenere i giovani agricoltori, e praticamente questo è un commentativo che cosa dice? Gli elementi chiave da valutare sono almeno il rinnovo degli agricoltori relativo al sostegno dei giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori per l'insegnamento della continuità, quindi il rinnovo che c'è stato grazie all'intervento della PAC, del piano strategico della PAC, lo sviluppo di business che reagisce al sostegno della creazione di imprese rurali e diversificazione delle aziende agricole. Questi elementi devono essere valutati sulla base di due fattori di successo, che sono appunto il numero dei giovani agricoltori in aumento, il numero delle imprese rurali in aumento. E' chiaro che sono elementi, a mio avviso, abbastanza alti, insomma abbastanza generici per poter essere ricompressi, diciamo, nelle analisi valutative, che andiamo a fare per ciascun obiettivo specifico e quindi diciamo che non è un grosso problema. Ripeto, valutazione del strategico della PAC, tutti, deve tenere presente tutti i criteri di valutazione e fare l'assessment dell'impatto generale del piano uguale, impatto uguale contributo del piano al raggiungimento degli obiettivi generali della PAC. Andiamo al quarto elemento, diciamo, dell'atto implementativo sulla valutazione, il piano di valutazione da approvare entro un anno, ecco, dall'approvazione del piano strategico della PAC, approvato, revisionato sotto, però, tramite comitato di sorveglianza, deve, c'è un template, diciamo, del piano strategico della PAC, che devo dire, del piano di valutazione, che non è molto differente da quello precedente, mancano le risorse rispetto a quello precedente, ma che di fatto dà degli input più di tutto, più di che altro di carattere appunto organizzativo e di strutturazione, con l'importante è definire le attività valutative, la tempistica, per poi essere monitorato, perché poi questo verrà monitorato durante, attraverso le relazioni annuali, di monitoraggio del piano strategico, e bisognerà mettere appunto in questa relazione di monitoraggio le attività che sono state condotte, i loro findings, risultati delle attività valutative realizzate fino a quel momento. Importante poi il capitolo cinque, nel capitolo cinque la comunicazione appunto dei risultati, ecco, delle valutazioni ed eventuali modifiche anche del piano di valutazione. Un altro capitolo è dedicato alla stima quantitativa, ecco, del contributo di piani strategici della PAC agli obiettivi specifici, quindi anche qui non è nuovo per noi che lavoriamo in questo ambito, sulla PAC, uso di indicatori comuni, ma c'è molta promozione di uso di indicatori specifici, ecco, per programma in base all'intervento logico, se pertinente, l'uso di informazioni complementari, ecco, per gli indicatori, per aiutare appunto, ecco, le valutazioni. stimare i risultati della PAC sulla base dei dati sugli interventi, per esempio, sugli impegni ambientali potrebbe essere difficile e quindi dice, ecco, bisogna mettere in grado i valutatori di fare una valutazione, no, degli impatti e degli impegni ambientali pur se è difficile avere dei dati, diciamo, poi correnti. Il capitolo sette è molto importante, a mio avviso, perché c'è un elemento che è risultato in qualche modo abbastanza nuovo. Qua c'è una commissione europea che chiede, ecco, di mettere in grado, praticamente, assicurare la disponibilità dei dati ai valutatori, che per carità è importantissimo, però dopodiché ci sono poi le raccolte, ovviamente, i dati che dovranno fare, ecco, i valutatori. Però di fatto il capitolo sette, per come è organizzato, per come anche nella lettura, diciamo, nella lettura, ecco, del capitolo sette, si intende evidentemente che lo Stato membro deve mettere in grado i valutatori, ecco, questo sarà un piacere per tutti i valutatori, deve mettere in grado il valutatore, ecco, di avere tutti i dati possibili per poter fare il proprio, il proprio, svolgere il proprio percorso di valutazione. Quindi pianificare in, in anticipo, ecco, la, i data needs, fare, ovviamente, valutare anche i possibili, i fabbisogni, quindi, ecco, di dati, pianificarne la raccolta, concertare insieme agli istituti di ricerca, e gli istituti statistici, ecco, rilevanti, ecco, la raccolta di questi dati, una, i dati che devono essere rilevati anche a livello territoriale, il capacità di building, che è fondamentale, perché deve mettere in grado le capacità, le competenze, ecco, anche a livello territoriale, quindi dei GAL, ecco, per poter fornire i dati necessari alla valutazione. E quindi, questo è tutto, diciamo così, ho corso un poco, sperando di non essere troppo lunga sui tempi, volevo soltanto, ecco, fare un quadro, però, di dove siamo, ripeto, il primo aprile, ecco, quest'atto implementativo, che è dato da questi sette actors, no, da questi sette punti, diciamo, ecco, verrà, in qualche modo, finalizzato, per poi essere pubblicato in giugno 2022. Sono aperta, eventualmente, intanto, interrompo la condivisione. Grazie, Simona, sì, i contenuti, grazie, perché appunto, sei stata molto analitica e dettagliata, i contenuti che hai, che ci hai illustrato, erano tanti, quindi, insomma, il tempo, hai provato a comprimerlo, però non si poteva comprimere più di tanto, comunque era utile avere un quadro complessivo di quello che ancora non è, e quindi ci hai dato, in qualche modo, anticipazioni di quello che state discutendo a livello europeo, e quindi, insomma, per noi valutatori è molto interessante. Darei subito la parola a Francesca, è un po' lunghi, e vorremmo lasciare spazio alla discussione, quindi vai, Francesca, prenditi il tempo, però, che ti serve. Grazie. Grazie a te, Virgilio. Intanto, grazie a Virgilio e all'AiV per avermi coinvolta in questa, in questa occasione di confronto sul passato e il futuro nella valutazione della PAC. Provo a mia volta a condividere lo schermo, ho preparato una azione che più che altro mi accompagna nel mio intervento, intervento che è centrato su richiesta del coordinamento sull'esperienza che abbiamo avuto, e che abbiamo avuto nella valutazione della politica agricola a livello, a livello europeo, in particolare nella valutazione delle misure di mercato e delle misure di sostegno a reddito, le misure di intervento, quindi, oltre alle misure, tra l'altro, abbiamo valutato ovviamente anche le norme che regolano il mercato e sostengono diciamo l'offerta e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Le misure di intervento e i pagamenti diretti, come sapete, sono finanziati dal Fondo Europeo di Garanzia. Nel corso di questi vent'anni di attività il committente è stato quasi esclusivamente DG Agri e abbiamo appunto iniziato a valutare per DG Agri come cogea nel 2020 e nel corso di quest'anni abbiamo realizzato o partecipato a diciamo tra le 45 e le 50 valutazioni, quindi un bel numero, un bel numero. Si tratta insomma come vedete vi ho portato insomma alcuni esempi di valutazioni di valutazioni orizzontali ovvero che vanno diciamo a cogliere l'effetto della politica o di un cambiamento della politica diciamo su tutto il settore agricolo oppure per settore nel tempo abbiamo valutato veramente tantissimi settori scoprendo delle realtà produttive interessantissime oppure valutazione di uno schema di regole o di una politica specifica ad esempio le norme sugli effetti diciamo sull'offerta e anche sulla domanda delle norme di richettatura delle carni bovine oppure l'anno scorso ad esempio abbiamo valutato il sistema delle indicazioni geografiche cioè DOPGP sostanzialmente l'anno scorso ancora diciamo una valutazione sulla politica diciamo sugli interventi tesi al benessere degli animali e quindi insomma come diciamo uno spettro molto ampio di temi e di misure e di schemi diciamo sul quale abbiamo approfondito nel tempo le analisi e ovviamente anticipo che la circostanza che l'analisi poi vada diciamo è di Gagri un'analisi a livello europeo quindi sull'intero territorio comunitario è una differenza diciamo essenziale che che ad oggi ha caratterizzato la valutazione del primo pilastro diciamo delle politiche di mercato e dei pagamenti diretti rispetto rispetto alla valutazione del secondo pilastro sulla quale ho un'esperienza più limitata ma ho comunque diciamo eh esperienza per potermi permettere un confronto e chiaramente impatta sulla disponibilità dei dati che nel caso insomma delle valutazioni sul fondo europeo agricolo di garanzia è senz'altro più ampia ma anche poi eh sulla possibilità di entrare eh in modo sistematico eh nel dettaglio che eh è invece sostanzialmente eh molto ridotta rispetto alle valutazioni che eh i miei colleghi eh del secondo pilastro sono soliti fare nel corso diciamo di un periodo di programmazione un aspetto secondo credo eh interessante della valuta dell'esperienza che ho avuto nella valutazione del primo pilastro per DG Agri e che la domanda diciamo di DG Agri si è modificata si è modificata nel tempo vi ho detto vi ho parlato di vent'anni di esperienza eh tutti noi siamo abituati a riforme la riforma della riforma della riforma della PAC ma devo dire che questo processo di eh di riforma è stato accompagnato da DG Agri dalle dalla valutazione ed è quindi un esempio di come diciamo la valutazione possa rispondere a un fa bisogno o a dei bisogni fa bisogno specifici eh di valutazione anche grazie credo ma lo vedremo in seguito al sistema di governance di queste di queste valutazioni vi dicevo la domanda si è modificata nel corso del tempo quando abbiamo iniziato a lavorare e valutavamo eh le singole organizzazioni comuni di mercato quindi diciamo le misure eh mirate su un settore con analisi per bacini produttivi quindi a seconda ovviamente del settore che sotto analisi diciamo eh allargavamo diciamo la lente di ingrandimento sui bacini produttivi regionali o interregionali eh e dal 2006 2007 diciamo DG Agri ha usato la valutazione per accompagnare il processo eh di riforma eh Fischler e e questo diciamo ha comportato eh per noi valutatori eh DG Agri per me e per le altre società insomma che lavorano per DG Agri non siamo ovviamente gli unici eh un cambiamento proprio di organizzazione della valutazione una capacità eh diciamo di lavorare eh veramente su tutto il territorio comunitario quindi non più su alcuni bacini produttivi ma diciamo eh attivarsi rapidamente su tutto il territorio comunitario questo per quanto riguarda ad esempio la mia esperienza ha portato alla costituzione di un eh consorzio europeo con dei colleghi eh francesi che ha praticamente eh in qualche maniera banalmente raddoppiato la nostra capacità eh di valutazione sia diciamo come contenuti ma proprio anche come come capacità eh diciamo eh territoriale e dal duemila quattordici quindi una volta diciamo stabilizzata eh la riforma la grande riforma insomma eh che è iniziata con l'uscita del regolamento del duemilatré ma poi è andata avanti insomma anni sostanzialmente e le valutazioni dal duemila quattordici in poi eh hanno avuto un ulteriore sviluppo un ulteriore adattamento al contesto della valutazione diciamo politico e perché sono sono tutt'oggi fortemente caratterizzate dalla sempre più ampia sussidarietà e quindi diciamo eh quella che mh a DG Agri a Bruxelles chiamano sussidarietà a volte noi chiamiamo nazionalizzazione della pacca insomma ovviamente ha fatto in maniera che quello che prima era un unico sistema di aiuti o di regole è diventato sempre più diciamo un sistema molto articolato a livello territoriale e quindi diciamo con delle necessità di analisi diciamo meno standardizzate e anche diciamo dal duemilaquattordici in poi DG Agri e la commissione europea diciamo ha cominciato a chiedere di integrare nelle analisi agli strumenti del primo pilastro anche quelli del secondo pilastro un esempio proprio diciamo di scuola credo possa essere su quest'ultimo punto soprattutto se poi come diceva Virgilio ci sono i colleghi che hanno fatto la valutazione ex-ante immagino che possano cogliere a pieno insomma questo questo processo magari qualcuno è anche stato nei miei gruppi di lavoro per quanto riguarda la valutazione dell'impatto della PAC sul reddito la stabilità sul reddito degli agricoltori e la stabilità l'ho valutato l'abbiamo valutato sostanzialmente due volte una prima volta nel duemilaundici duemilaedici duemilaundici quindi ancora in in fase diciamo di assestamento della riforma Fischler e quando era lo studio anche diciamo la nuova organizzazione dei pagamenti diretti che c'è stata poi nel duemilaquattordici nel duemilaquattordici e in quell'occasione diciamo il nostro committente la commissione europea ci ha chiesto di valutare solo cioè i pagamenti diretti che sono proprio lo strumento diciamo mirato per l'aiuto al reddito nel duemila sedici mi sembra sì in duemila sedici duemila diciassette abbiamo ripetuto diciamo in una valutazione molto 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 ampia la le analisi sull'effetto sull'impatto della PAC sul reddito ma questa volta ci è stato chiesto di mettere sotto analisi non solo i pagamenti diretti ma anche i pagamenti annuali e le misure e gli investimenti del del secondo pilastro quindi diciamo un'integrazione un po' quello che sta avvenendo di fatto oggi nel piano strategico nazionale questo questo percorso quindi questa modifica diciamo di paradigma della valutazione del primo pilastro ricorda molto diciamo l'attuale cambiamento di scenario della politica determinato dai piani strategici nazionali continuo a raccontarvi quello che è stato la valutazione del primo pilastro poi ovviamente vado rapida e sono disponibile per qualsiasi approfondimento e quali sono state le caratteristiche quali sono le caratteristiche insomma principali e in questo senso ragiono un pochino per differenza rispetto la valutazione del secondo pilastro allora intanto la prima la prima differenza o la prima caratteristica principale è che ogni valutazione è un pezzo unico è come diciamo è come se fosse per diciamo nel linguaggio della valutazione della della politica di Sdrupru la l'analisi tematica è un pezzo è un pezzo unico diciamo richiesto da DG Agri messo a bando da DG Agri con un capitolato del Terms of Reference con domande valutative diciamo nel tempo ho fatto valutazioni con tre domande di valutazione quindi o diciamo normalmente sono comunque sette, otto, dieci domande di valutazione e quindici domande di valutazione che portano sui cinque criteri canonici citati prima da Simona quindi efficacia efficienza pertinenza coerenza e valore aggiunto comunitario in particolare questi su questi ultimi due temi insomma è stato nei percorsi di riforma diciamo hanno molto stressato su questi su questi ultimi due ultimi criteri cioè coerenza e valore aggiunto comunitario sono quindi sostanzialmente delle scusate delle delle valutazioni diciamo ongoing o during the program il periodo di osservazione in media è di cinque anni ma diciamo i sistemi di aiuto e gli strumenti di intervento sono sono ancora in vigore al momento della valutazione questo diciamo è un tratto caratteristico delle valutazioni che ho fatto per sul primo pilastro e il sistema di governance è diciamo si articola e DG Agri è il committente ma al momento in cui viene lanciata una valutazione viene anche costituito uno steering group ad hoc interistituzionale quindi non c'è solamente non sono solamente funzionari DG Agri ma funzionari di altre direzioni generali interessate più o meno interessate nel tempo questo steering group è diventato sempre più numeroso quindi non c'è solamente DG Ambiente o DG Sant'E per intenderci ma anche lavoro DG Regio portando sul tavolo delle esigenze e permettetemi di dire anche degli interessi insomma interessi in senso politico strategico chiaramente diversi che rende diciamo il confronto con lo steering group senz'altro stimolante ma a volte un po' faticoso con lo steering group si declina nella fase l'approccio alla valutazione quindi diciamo come la scuola di valutazione ci ha insegnato ogni le domande valutative ogni domanda valutativa viene declinata in criteri di giudizio e per ogni criterio di giudizio identificati indicatori e fonti è un lavoro che viene presentato e discusso diciamo nei primi due mesi della valutazione dopo due mesi due tre mesi diciamo del lancio della valutazione con con lo steering group in qualche maniera diciamo ogni volta si si definisce diciamo il il perimetro della valutazione e diciamo le regole d'ingaggio se vogliamo e gli indicatori d'ecmef parlando diciamo al passato sono diciamo di riferimento ma in questo contesto quindi non ci sono non ci sono linee guida perché non c'è di fatto un bisogno di di sommare i risultati delle valutazioni o di lettura diciamo orizzontale delle valutazioni come dicevo la valutazione è un unicum che viene fatta diciamo e restituita eh al ad agri e e quindi appunto non le linee guida vengono di fatto diciamo la la metodologia viene di fatto studiata e concordata di volta in volta sono valutazioni che durano normalmente un anno dalla riunione di kick off alla consegna del del rapporto del rapporto finale un'altra caratteristica diciamo a cui faceva riferimento Simona eh poco 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 fa eh delle valutazioni diciamo delle misure di mercato e dei pagamenti diretti eh porta diciamo sulla disponibilità dei dati e eh e quindi anche dei metodi è vero diciamo eh le valutazioni che abbiamo fatto le misure diciamo le analisi statistiche le misure quantitative le stime sono state sono facilitate diciamo sono rese possibili dalla facilità di accesso ai dati centralizzati eh di attuazione ehm i dati della spesa i dati CAZ ci vengono forniti a DG Agri diciamo ehm al momento eh di inizio eh della della valutazione i dati quando esistono i sistemi di monitoraggio ad hoc penso ad esempio all'Ocm Ortofrutta sistemi di mercato o delle misure che sono gestite di misure con diciamo di crisi che sono gestite direttamente da da DG Agri diciamo siamo abbiamo un un accesso eh diciamo rapido e e sicuro a questi dati che sono comunque controllati e standardizzati e oltre ovviamente poter diciamo basare le nostre analisi le analisi su eh dati statistici diciamo eh di fondati di fonte statistica che sia FAO che sia COMEX che sia Eurostat che sia la RICA eh omogenei quantomeno a livello nazionale insomma una disponibilità a livello nazionale ovviamente c'è sempre insomma quando bisogna portare ed è stato necessario ed è spesso necessario portare le analisi a livello regionale si cerca diciamo il dato eh a livello se esiste il dato a livello regionale per tutte le regioni comunitarie e nel caso della RICA esiste nel caso diciamo di Eurostat a volte esiste a volte no insomma come dice il mio amico Eugenio Eugenio si fa la torta con gli ingredienti di cui uno dispone certamente diciamo a livello di dati eh è diciamo una torta una torta una bella torta una torta ricca ma ma diciamo eh è sempre stato nella nostra esperienza su qualsiasi valutazione sempre è stato indispensabile integrare le diciamo le analisi quantitative le analisi statistiche e più si usano modelli econometrici più importanti farlo devo dire questo quantomeno è una mia diciamo eh valutazione dilutatrice permettetemi il gioco di parole e integrare con delle con quelle che ho chiamato missioni sul territorio credo perché non c'è la mia faccia sulla parola ma penso di sì e quindi sostanzialmente con dei casi studio diciamo territoriali o settoriali a seconda dell'oggetto della valutazione basati diciamo col quale ci si va a confrontare con con gli stakeholder con gli operatori di settore a livello nuovamente a livello comunitario a livello nazionale e regionale per per capire insomma a livello dei settori senz'altro insomma il comportamento strategico degli operatori le differenze fra diverse aree produttive e diciamo distinguere in modo qualitativo e quindi non più solo quantitativo gli effetti della politica da altri da altri drivers e in quest'ultima fase come vi dicevo la diciamo di primo pilastro la la sussidiarietà ha diciamo richiesto uno sforzo valutativo diverso e ulteriore diciamo più che più che diverso perché diciamo oltre alla a poter contare sui dati di attuazione centralizzati molto spesso è necessario per rispondere diciamo a alla domanda di valutazione dello steering group avviare una fase di raccolta di dati sul territorio è tipico il caso visto che siamo che siete tutti credo diciamo sul pezzo rispetto i sistemi diciamo dello sviluppo uguale quando c'è richiesto è stato richiesto diciamo l'intervento della misura 4 investimenti su un settore è un tipo di informazione che nel sistema di monitoraggio che la regione manda all'Italia l'Italia manda a DG Agri non c'è e quindi diciamo è necessario aprire i canali di informazione con le ADG incontrare diciamo i responsabili dei sistemi di monitoraggio oppure diciamo i responsabili stessi responsabili di misura della delle varie della misura interessata per cercare di ricostruire diciamo un minimo di contesto sul sull'effettiva diciamo messa in opera diciamo delle 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 misure del dei PSR e anche diciamo poiché sempre più diciamo si è data possibilità agli stati membri di adattare gli strumenti anche del primo pilastro le misure di mercato i pagamenti diretti alle diciamo alle esigenze mappate del proprio del proprio territorio e il meccanismo è delimato un elemento diciamo importante se non essenziale diciamo delle valutazioni del primo pilastro che erano iniziate appunto nel 2000 con una delivery assolutamente centralizzata su Bruxelles ora diciamo è diventata molto molto articolata e il primo diciamo step di qualsiasi valutazione è proprio ricostruire diciamo il quadro attuativo e capire diciamo che come come diciamo realizzare le analisi e anche su quali territori portarla con diciamo degli approfondimenti per casi per casi studio e qui torna appunto dal quale ero partita ovvero che il livello di dettaglio delle valutazioni del primo sul pilastro ad oggi non 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 si avvicina minimamente a quelli diciamo a livello di dettaglio della del secondo pilastro ma diciamo ci sta considerando appunto che alla fine il giudizio che uno trae lo trae su una politica realizzata diciamo su 27 stati membri oggi e non diciamo su un in dieci anni e non su magari diciamo un programma realizzato nell'ambito di un contesto territoriale più ristretto più definito cosa concludo diciamo riagganciandomi alla conclusione di di Simona cosa da tutto questo sistema che spero di avervi tratteggiato insomma se non se non chiarito che cosa cosa possiamo diciamo importare che cosa cosa significa portare questo sistema di valutazione a livello nazionale a me sembra diciamo che sia un vantaggio per diciamo questo soprattutto la governance di queste valutazioni possa diventare un diciamo un gran vantaggio per i policy maker che in corso di programmazione possono richiedere quando entro se la richiesta è fatta a livello nazionale o regionale però insomma parlano proprio dei policy come entità superiore possono richiedere delle analisi tematiche che centrano delle necessità o di urgenze o di urgenze del momento e quindi diciamo attivare una una valutazione con un gruppo di valutazione creato ad hoc quindi con delle competenze ed esperienze specifiche sul tema o su un tema o su un settore per poter diciamo rispondere ad una a un fabbisogno conoscitivo diciamo immediato a titolo d'esempio sto ora partendo con un gruppo di lavoro sempre per DG Agri su una valutazione che per capire come hanno funzionato e gli effetti diciamo delle misure che sono state attivate sul settore bovino per rispondere ai disturbi di mercato creati dalla crisi del covid temo che ci saranno nel prossimo futuro altre valutazioni del genere per altre per altre crisi ed è diciamo chiudo quindi quel mio intervento con una nota diciamo di tristezza rispetto al momento attuale e mi confermo a disposizione per qualsiasi altra curiosità abbiate su questo ciclo di di valutazione grazie grazie Francesca grazie insomma per la tua esposizione molto utile perché noi valutatori che in questi anni ci siamo occupati secondo pilastro abbiamo un po' sofferto il fatto di dover analizzare gli effetti dello sviluppo rurale su un territorio quando non avevamo contezza di che cosa succedeva sul primo pilastro che spesso sono stati investimenti anche rilevanti quindi questa non funziona come ha funzionato in questi anni la valutazione del primo pilastro perché finalmente potremo avere una visione olistica diciamo come valutatori potremo dare un contributo più efficace a capire i fenomeni lascio la parola immediatamente a Eugenio a cui chiedo se riesce ad essere sintetico dato che siamo un po' lunghi però chiaramente è giusto che si prenda il suo spazio vorremmo lasciare poi tempo alla discussione eventualmente ci fermeremo qualche minuto dopo l'una se ci sarà dibattito a sufficienza perché mi sembra interessante discutere di questi temi tutti insieme grazie Eugenio buongiorno a tutti faccio comincerò a parlare della mia esperienza recente da valutatore dal 2000 da in poi quindi scherzo ho pensato vabbè ma di che parlo perché ovviamente ci sarebbe tanto da dire tante riflessioni da fare e in pratica mi è sembrato che è un punto chiave diciamo in una fase in cui si sta si sta stabilendo qual è il nuovo sistema di valutazione che Simona ci ha già tratteggiato e che fino a mezz'ora fa ignoravo diciamo la mia riflessione si è concentrata sugli aspetti della della complessità del quadro diciamo delle delle regole stabilita o per la valutazione dunque io condividerei lo schermo e confermatemi se vedete una freccia la vediamo la vediamo ecco allora diciamo io volevo volevo concentrare il mio la mia attenzione di esperienza di valutazione del secondo pilastro ma anche al confronto con altre valutazioni di altri fondi che ho fatto rispetto a questo a questo vettore diciamo così che da una parte ha la discrezionalità dall'altra all'obbligo ora quanti fra chi ci ascolta non hanno dimestichezza particolare con la valutazione del FEASR probabilmente sanno solo in parte quale quale complessità al quadro di regole e quali elementi di corgenza presenta un po' un po' dovunque allora il la mia idea diciamo forse un po' provocatoria e qua non troverete delle verità incontroverti non ho la pretesa che di aver scritto le verità incontrovertibili ma solo elementi di dibattito per cui li butto lì e poi naturalmente chiunque troverà che sono in parte potrà trovarci d'accordo e spesso no ma insomma è soltanto per evidenziare come a mio modo di vedere un sistema appunto di regole più o meno definito può arrivare a determinare un certo tipo di risultato un certo tipo di effetti della valutazione per cui diciamo io ho diciamo ecco valutato a sinistra gli aspetti negativi a destra gli aspetti positivi per così dire delle di diversi di diverse questioni diciamo più o meno disciplinate del sistema della valutazione della valutazione del PSR allora una prima considerazione scusate ma ecco una prima considerazione il piano di valutazione ora il piano di valutazione era abbastanza obbligatorio diciamo era una cosa che finiva dentro dentro il il PSR stesso e aveva un suo capitolo diciamo così quindi aveva un elevato grado di obbligatorietà anche perché aveva un'articolazione che adesso Simona ci ha detto più o meno riproposta nella stessa maniera e allora da questo punto di vista io ci vedo positivamente l'aspetto che ha rappresentato per chi lo ha dovuto redigere per chi ci si è dovuto confrontare un elemento di impegno un punto fermo è appunto un elemento di impegno anche per chi ha dovuto mettere nero su bianco le cose che doveva scrivere in questo paragrafo dall'altra parte nella mia esperienza i piani di valutazione hanno peccano diciamo così di formalismo di adempimento cioè della necessità di di svolgere questo adempimento spesso e volentieri abbiamo visto dei piani molto simili fra loro nelle diverse regioni insomma sostanzialmente da una parte un impegno la necessità di doversi impegnare a redigerlo dall'altra dall'altra un po' diciamo una si è assistito a qualche compitino ecco fatto un po' sbogliatamente scusatemi il tono magari è un po' ma insomma è anche per 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 sviluppare il dibattito un altro un altro punto un altro aspetto se riesco ad andare avanti con la valutazione con la ah ecco un altro aspetto sono le domande valutative allora forse diciamo è stato detto ma non è non è così ovvio per chi viene dagli altri fondi che nel sistema nel sistema della valutazione del PSR il il pacchetto di domande valutative è definito è definito abbiamo 30 domande valutative dopo di che certo possiamo aggiungere tutte quelle che vogliono vogliamo vogliono diciamo le parti socialiste col dell'adg però di fatto le 30 domande valutative sono un obbligo per tutti quindi c'è un elevato gradiente di obbligatorietà e e diciamo sempre per partire dagli aspetti positivi l'obiettivo di questo di questo elevato grado di standardizzazione è la confrontabilità fra diverse fra diverse valutazioni di diverse regioni quindi anche la possibilità di comporre un quadro complessivo sommando le diverse valutazioni regionali dall'altra parte noi sappiamo che queste domande valutative sono poi in realtà una trasposizione degli obiettivi con un punto interrogativo alla fine insomma hanno una certa genericità normalmente dietro a ciascuna domanda valutativa c'è una lunga declamatoria di obiettivi i sottobiettivi e di manche che che alla fine diciamo portano l'esercizio valutativo verso verso una necessità insomma di dare conto un po' di tutto e anche fra l'altro spesso e volentieri con dei limiti abbiamo abbiamo anche dei limiti numerici di caratteri da rispettare per cui finisce che la valutazione attraverso queste domande valutative rimane a volte un po' generica diciamo l'altro aspetto è gli indicatori di risultato impatto alto grado di obbligatorietà sono cose stabilite addirittura nei regolamenti o negli allegati dei regolamenti sono in realtà hanno tantissimi hanno il pregio anche qui della confrontabilità della sommabilità sommabilità su cui mi permetto anche di sollevare qualche qualche dubbio diciamo l'idea di riuscire di provare a sommarli tutti quanti per capire gli effetti complessivi a livello europeo di queste politiche diciamo è un'ambizione che forse non è sempre non è sempre arrivata a buon fine dall'altra parte ho scritto secondo me fra i difetti difficile interpretazione o meglio diciamo l'interpretazione è anche chiara però non mi risulta ecco diciamo così che intorno ai valori degli indicatori di risultato e di impatto si siano innescati grandi dibattiti sostanzialmente cioè si quantificano si fa anche un discreto sforzo per quantificarli poi però forse i fenomeni che più interessano gli stakeholder che più interessano chi legge la valutazione non si leggono attraverso questi indicatori un altro aspetto diciamo con un dal mio punto di vista un grado un po' minore di obbligo nel senso che noi abbiamo abbiamo definito dei prodotti e delle scadenze però in realtà il grosso della valutazione abbiamo appunto un paio di prodotti la valutazione ex ante la valutazione ex post nella vecchia programmazione ci sono state due valutazioni intermedie importanti 17 e 19 poi però buona parte dell'attività cioè altra buona parte dell'attività si è svolta al di fuori di queste scadenze così così determinate quindi non è un grado di obbligatorietà estremo ma comunque è definito uno scadenzario che per esempio in altri fondi di fatto non è esistito nelle ultime due programmazioni allora noi diciamo attraverso questi obblighi abbiamo da una parte l'aspetto positivo è che sono stabiliti degli standard minimi o meglio dei momenti predefiniti di confronto sui risultati e insomma dei momenti in cui volenti o nolenti tutti quanti dovevano produrre quel documento che aveva quei contenuti dall'altra noi sappiamo che questo ha determinato anche una grande corsa appunto adempiere perché fra l'altro c'erano anche sanzioni non irrilevanti per chi non adempiva però forse spesso e volentieri ha contato di più appunto adempiere che non i contenuti del documento che è stato realizzato un altro aspetto a cui io dico non è stato dato quasi nessun elemento di obbligatorietà diciamo è la governance della valutazione sostanzialmente ciascuna regione nella mia esperienza poi naturalmente tutto quello che dico adesso è tutto criticabile può essere visto tutto al contrario di come lo vedo io ci mancherebbe altro però appunto la governance più o meno è stata organizzata abbastanza liberamente da ciascuna da ciascuna regione e fra i lati positivi di questa di questo quadro insomma di questo elemento di discrezionalità abbiamo che di fatto c'è stato un adattamento al contesto di fatto diciamo così chi si è occupato di valutazione nei diversi nei diversi contesti sono state le persone magari più portate anche più 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 interessate per certi versi quindi abbiamo avuto anche delle buone interlocuzioni dall'altro lato io noto verificato una certa instabilità poi anche una certa magari si partiva con l'idea di creare uno steering group poi siccome era complicato si cambiava strada poi cambiava diciamo così il cambiavano i dirigenti e si cambiava regime ecco questo è un po' il difetto di questo di queste scelte fatte a proposito della governance un altro aspetto che metto a metà è quello delle fonti e metodi ora su fonti e metodi in realtà non ci sono dei veri e propri obblighi però ci sono delle linee guida molto dettagliate a livello europeo a livello nazionale con con una forte attività di condivisione e da alcuni diciamo queste ipotesi di queste linee guida sono state considerate insomma come il punto di riferimento da cui partire e allora su questo io dico c'è stato appunto importante una funzione di indirizzo e di diciamo soprattutto di fronte alla varietà delle tematiche che esistevano nella valutazione una funzione di appunto di indirizzare i i vari valutatori verso scelte abbastanza coerenti fra loro dall'altra volendo queste fonti e metodi abbracciare le esigenze di tutta Europa e di tutti i sistemi con basi dati molto differenti fra loro eccetera eccetera io penso che si sono rivelati spesso dei libri dei sogni che poi hanno dovuto essere misurati con 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 le reali possibilità presenti in ogni ambito e quindi questo grande sforzo che è stato fatto di definire appunto fonti e metodi linee guida per tutti quanti poi alla lunga si è diventato in alcuni casi si è stato un po' un obiettivo irraggiungibile per alcuni per alcuni di noi un altro aspetto invece ecco per esempio gli approfondimenti tematici sugli approfondimenti tematici non è non è stata data non sono state date indicazioni particolari e di fatto mi è sembrato molte regioni si sono regolate utilizzando questo spazio degli approfondimenti tematici per far dare esprimere delle domande valutative di effettivo interesse quindi dal mio punto di vista quello è stato un momento in cui appunto la discrezionalità ha giocato un gioco ha giocato una funzione di coinvolgimento delle adg e dei diversi soggetti che che dovevano esprimere una domanda di valutazione al di là di quella della commissione che abbiamo detto era fatta da quelle 30 domande di cui sopra insomma dall'altra parte quello che può essere un difetto poi forse non lo è perché sta è implicito nella scelta del diciamo così di fare approfondimenti tematici un po' di eterogeneità sui sui contenuti sugli sviluppi di questo di questa di questi approfondimenti tematici un ultimo aspetto che su cui mi sembra c'è una media un medio grado di discrezionalità è stato e che è quello della comunicazione della valutazione cioè sono stabiliti dei momenti in cui bisogna necessariamente raccontare della comunicazione e quindi sia nell'ambito dei comitati di sorveglianza sia nell'ambito degli incontri annuali sia nell'ambito delle RAA però ci sono stati ci sono stati e ci sono varie varie sedi in cui diciamo la comunicazione è un po' svincolata e anzi per certi versi anche molto destrutturata nel senso che magari diciamo non programmata all'inizio viene viene programmata mano a mano secondo secondo certe tematiche quindi dal lato positivo abbiamo diciamo la condivisione dei temi e degli obiettivi perché poi segue diciamo le scelte di comunicazione seguono molto le esigenze per esempio di comunicazione delle politiche e magari sono la valutazione segue anche un po' eventuali trasformazioni o rimodulazioni del programma che si intendono adottare dall'altro il fatto che siano previsti cioè sono previsti degli spazi relativamente limitati per la comunicazione ovviamente non dappertutto però di fatto la comunicazione della della valutazione non ha sempre lo spazio che probabilmente meriterebbe se diciamo se noi facciamo il nostro lavoro come si deve allora questo più o meno è il mio diciamo la mia riflessione e quello che volevo concludere dicendo che due cose la prima è che esistono vari modi per determinare diciamo elementi di obbligatorietà di cogenza di punti di riferimento che vanno da inserire regole norme elenchi all'interno dei regolamenti fino a le linee guida fino a diciamo linee guida rivolte all'autorità di gestione che poi le traslano nei nei capitolati e nei contratti e quindi per chi svolge la valutazione sono degli elementi di obbligatorietà anche quelli quindi esiste un modo di modulare questi obblighi dall'altro in senso generale quello che ne tiro fuori è che da una parte più chiudiamo gli obblighi eh verso certe eh diciamo più rendiamo obbligatorie una serie di norme più dal mio punto di vista si creano dei rischi di una responsabilizzazione di chi gestisce e di chi deve attuare la valutazione perché appunto eh diciamo si tende a a focalizzarsi su sull'adempimento piuttosto che sul eh che sulla domanda valutativa o meglio su sulla soddisfazione di un'esigenza informativa dall'altra l'obbligatorietà ha il pregio di essere di essere quella frusta che induce ad accelerare certe procedure induce a realizzare certe eh certi passaggi eh che non sono sempre quelli prioritari ma che appunto l'obbligatorietà eh crea rende rende inevitabili e e quindi da questo punto di vista io invito diciamo rispetto al quadro che ha che ha fatto eh Simona che mi sembra che sia un quadro che ehm diciamo stringe ulteriormente la vite delle degli elementi di 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 obbligatorietà diciamo quello che mi viene da pensare è che forse sarebbe il caso di modularli con con maggiore con maggiore attenzione ecco più o meno è quello che volevo dire spero di essere stato abbastanza sì grazie Eugenio sì grazie tante anche perché sei stato hai compresso i tempi ma a me devo dire personalmente è piaciuta la tua modalità di eh governare l'entropia delle questioni che potevi che potevi tirar fuori insomma l'hai detto all'inizio effettivamente le le potevi parlare per ore di dell'esperienza della votazione del secondo pilastro che appunto anche anche noi facciamo quindi sappiamo quante sono i come i meandri che si potevano approfondire ma mi è piaciuto il il tuo approccio che è stato un approccio appunto da valutatore perché hai scelto otto otto questioni e quindi le hai le hai valutate dal dal tuo punto di vista la tua sulla base della tua esperienza e ci hai dato degli spunti che dal mio punto di vista sono molto interessanti anche per la discussione perché appunto l'interpretazione che tu hai dato tra necessità e libertà e così per termini un po' filosofici è una questione secondo me centrale e sarà centrale anche rispetto alla alla PAC 23-27 proprio per quello che diceva Simona appunto di questo quadro unico in cui però bisognerà capire anche quali sono l'autonomia delle regioni e quali sono anche gli obblighi delle regioni questo è un tema molto interessante io adesso se siete d'accordo dato che avevamo programmato alcuni interventi però per una serie di ragioni alcuni assenti giustificati altri ingiustificati non abbiamo questi interventi abbiamo la fortuna di avere una mezz'oretta appunto di tempo per il dibattito che appunto spero sia come dire interessante per tutti i partecipanti e volevo sapere intanto volevo chiedere intanto volevamo chiedere intanto se c'era qualche dubbio qualche questione qualche richiesta di approfondimento su ciò che i contributi che ci sono stati dati oppure anche qualche intervento come dire che vuole in qualche modo riflettere su alcuni temi dicevo all'inizio che appunto proprio Simona con la rete rurale ha organizzato nei giorni passati un incontro proprio per le amministrazioni per le autorità di gestione per iniziare a riflettere su questo tema mi fa piacere che ci siano presenti anche qualche rappresentante delle regioni quindi può essere utile anche il loro contributo in questa sede di come loro vedono la situazione in questo momento e come si aspettano che sarà la valutazione della PAC ci sono anche tanti colleghi appunto che lavorano al CREA sulla rete rurale che chiaramente possono anche dare il loro contributo che è un punto di osservazione molto interessante perché in qualche modo stanno anche come Simona lavorando a costruirlo questo sistema e stanno cercando di capire quali possono essere le scelte migliori quindi chiederei se qualcuno ha voglia di dire qualcosa ha qualche dubbio di intervenire su qualsiasi tema diciamo di quelli che abbiamo affrontato ma anche questioni che non abbiamo affrontato perché come diceva Eugenio le questioni possono essere tantissime quindi chiaramente lui ha fatto una sintesi anche secondo me abbastanza onnicomprensiva delle questioni principali però chiaramente ci sono anche altre questioni interessanti che restano fuori c'è qualcuno che vuole spezzare spaccare il ghiaccio capisco che non è facilissimo diciamo però come dire se c'è qualche qualche dubbio qualche osservazione qualche punto che vorreste vorreste che si approfondisse nel prossimo futuro sulla valutazione della PAC diciamo non abbiate non abbiate remore c'è Paolo che vuole intervenire si volevo chiedere una cosa a tutti quanti salve a tutti cosa ne pensate cosa sapete cosa ne pensate di questa ipotesi ventilata di slittamento del periodo di programmazione dopo il 2023 nel senso che si sono già qualcuno ha già messo le mani avanti ha detto che diciamo in considerazione del fatto che ci sono tanti lingui di tipo ambientale il fatto che comunque l'aumento del costo di tante cose porta con sé appunto anche un aumento dei costi di produzione quindi i vincoli di tipo ambientale potrebbero essere ancora più difficili da portare tutto questo ha premesso c'è qualcuno appunto che ha prospettato l'ipotesi di dire non siamo pronti per il 2023 quindi però naturalmente questo presuppone il fatto che poi il periodo di programmazione verrebbe essere ancora più compresso con tutte le conseguenze del caso non so se qualcuno ha delle notizie in merito grazie Paolo della domanda che chiaramente è una domanda fuori tema perché non parla di valutazione però invece è interessante indirettamente diciamo stavo scherzando chiaramente siamo tutti come qualcuno ha detto all'inizio anche come dire un po' presi dalla situazione tragica e drammatica di questi giorni di queste settimane che chiaramente fa anche passare in secondo piano le nostre discussioni sui temi e la valutazione e quindi insomma c'è rivolgere il pensiero e l'attenzione a chi sta soffrendo chi sta morendo in una situazione inaccettabile probabilmente però al di là di questo e quindi io dico la mia opinione personale cioè da questo punto di vista è chiaro che nella situazione drammatica ed eccezionale che stiamo vivendo è chiaro che tutto è possibile quindi gli sconvolgimenti potranno essere tanti potranno essere anche di lungo periodo se questa se non riusciamo a trovare una soluzione diplomatica a questo conflitto quindi chiaramente anche la programmazione potrebbe potrebbe subire degli slittamenti io non ho non ho avuto ti dico personalmente non ho avuto notizie indicazioni di questo genere è chiaro che come dicevi giustamente tu Paolo la mh alcune alcune questioni alcuni impegni che sono stati pensati probabilmente dovranno essere ripensati perché gli effetti generali su a partire dalle questioni energetiche avranno avranno un impatto anche sugli obiettivi che ci diamo per il prossimo futuro io se come dire se dovessi decidere io come lo accennavi anche tu tenderei in tutti i modi a tenere fermo il 2023 come data di partenza perché già sarà una situazione diciamo per la programmazione in generale quindi poi è cascata anche per noi valutatori una situazione particolarmente critica e sfidante in virtù del fatto che c'è una programmazione che invece di sette anni ne ha cinque sappiamo quanta fatica fa il nostro paese ma anche altri ad avviare la programmazione e quindi diciamo i primi anni in cui ci sarà contemporaneamente come al solito la chiusura della vecchia programmazione che badate bene in questo caso la sovrapposizione sarà ancora più lunga perché mentre nella programmazione 14-22 abbiamo la regola del disimpegno automatico che è N più 3 nella programmazione 23-27 abbiamo la regola dell'N più 2 quindi la sovrapposizione avrà un anno in più diciamo rispetto al passato e poi ci sarà un anno in meno per completare questa programmazione quindi già la situazione è drammatica diciamo per riuscire a portare a termine la programmazione 23-27 se partissimo effettivamente nel 23 se si dovesse spostare secondo me vanno forse un po' ripensate le regole forse va anche ripensato l'N più 2 però mi sembra che non ci siano le condizioni in questo momento per far questo è chiaro che gli effetti della guerra sono un po' più che la guerra dell'invasione della Russia se mi schiero penso che siano un po' imprevedibili diciamo nel breve nel medio lungo periodo dipenderà da quanto questa questa cosa questa tragedia durerà quindi questa è la mia posizione io non ho però devo essere sincero non ho sentito ancora nulla sto ascoltando contemporaneamente la bilaterale della PSR regione Campania magari adesso può darsi che la commissione dica qualcosa Mari mi collego sta col microfono mi collego e casmai vi riferisco devo dire che in materia io che sto seguendo invece la riunione della commissione europea si sta andando avanti a sprompettuto come se non la fosse quindi diciamo così non c'è alcun settore invece a livello comunitario ecco del fatto che possa esserci un qualche slittamento è vero che però sta come dire è il loro approccio più tipico ecco fino all'ultimo non dicono mai ci si ferma perché tanto potrebbe esserci uno slittamento è chiaro che le implicazioni in materia di valutazione potrebbero essere ma anche di pianificazione della valutazione potrebbero essere veramente ingenti primo io direi a quel punto è un tema come dire è in provvedo di valutazione che a quel punto diventa più stretto di quattro anni insomma che vogliamo che vogliamo fare valutazione on going va bene però insomma durante il periodo di programmazione ok però insomma diventa difficile secondo me ecco cominciare a valutare poi e tantomeno evidentemente ma lì si chiederebbe ovviamente la commissione europea ecco tantomeno la numerosità degli elementi che sono specifici quanto vuoi ma che sono purtroppo comunque si ha degli elementi ecco poi da valutare appunto come dicevo l'Akis la rete ecco valutare tutti questi topics diventa veramente difficile da parte di una qualsiasi autorità di gestione del programma in così breve nel così breve tempo non dimentichiamoci peraltro che il follow up della valutazione cioè non ci sono i tempi poi per fare il follow up delle valutazioni cioè a quel punto fra virgolette ma cosa si fanno fare le valutazioni se non ci sono i tempi per dare seguito ai risultati ecco delle valutazioni perché di fatto ci troviamo già nel prossimo periodo di programmazione dunque questa simona è una cosa interessantissima perché appunto si fa proprio perché possa avere un effetto e possa essere utilizzata quindi mi sembra un'osservazione molto interessante scusa forse c'era Francesco forse vuole dire qualcosa no aveva solo acceso il video va bene non so se c'è qualche qualche altro intervento sui temi della valutazione è chiaro che un po' questa vicenda ci come dire ci prende tutti ci commuove tutti e quindi insomma è anche difficile riflettere delle nostre cose delle nostre beghe quotidiane in questa in questa situazione però non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche qualche riflessione qualche intervento sui temi che abbiamo trattato ma anche su su altre questioni più generali non so mi piacerebbe capire anche qual è la vostra la posizione io ho una mia posizione chiaramente la vostra posizione rispetto alla al governo della valutazione secondo voi non so forse se c'è qualche amministrazione ha partecipato all'incontro appunto che ha organizzato la rete rurale in cui la rete rurale ha predisposto un documento a dicembre dello scorso anno in cui prefigurava tre possibili scenari di come sarà organizzata la valutazione della PAC quindi uno scenario diciamo più centralizzato in cui il ministero che si fa carico della valutazione del PSP del piano strategico della PAC uno scenario diciamo più condiviso in cui c'è una partecipazione o ci sono le attività di valutazione anche da parte della regione è uno uno scenario più spinto in cui le regioni fanno una valutazione SP mi piacerebbe sentire anche dagli altri valutatori o anche dalle amministrazioni se vogliono esprimersi come come si posizionano rispetto a questi tre scenari diciamo differenti che ancora sono in fase di studio di analisi noi stiamo anche incidentalmente elaborando la valutazione ex ante della nuova rete rurale quindi la rete rurale della PAC e abbiamo come dire ascoltato anche un po' di regioni e di interlocutori a livello nazionale proprio confrontandoci anche su questo tema oltre che su altri temi e quindi daremo anche come dire un po' gli esiti di questa di questa indagine però mi piacerebbe magari poi se c'è tempo vi dico anche cos'è venuto fuori però mi piacerebbe sentire i colleghi diciamo se hanno una posizione rispetto a questi a questi tre scenari o o quale potrebbe essere secondo loro quello più efficace è più utile per fare una valutazione di qualità del piano strategico della PAC e degli interventi attuati a livello regionale del piano perché in realtà la complessità in questo meccanismo è che appunto il piano strategico della PAC ha delle misure che sono certamente nazionali come quelle appunto del primo pilastro o anche qualche misura del secondo come per esempio oggi sono le misure non so sulle grandi sulle risorse idriche piuttosto che sulle assicurazioni perché sappiamo che in questa programmazione c'è il PSRN quindi il piano di sviluppo rurale nazionale però poi ci sono appunto dello sviluppo rurale che invece vengono attuate a livello regionale quindi voi che opinione avete rispetto alla governance della valutazione per il 2327 nessuno vuole vuole esprimersi posso intervenire? David Francesco Francesco grazie no soltanto però un inciso su quello che diceva prima Paolo mi sembra che lui l'ha detto no solo perché perché mi sembra d'aver sentito però quasi che mi sbaglio al telegiornale che il ministro che ha proposto ministro dell'agricoltura che ha proposto l'ipotesi di rinvio della PAC dell'entrata in vigore della PAC ma no poi la valutazione si deve aggiornare essenzialmente perché viene vista un po' come l'ingresso di obblighi di vincoli che in questa fase non è opportuno introdurre ecco penso che per quello Paolo l'ha detto che poi però fa un po' il gioco con si sta un po' sviluppando sulla sulla riconversione ecologica diciamo così non la transizione scusate ecologica alcuni dicono che va rinviata perché non abbiamo adesso il lusso di poterci permettere la transizione ecologica no c'è la guerra per cui riapriamo pure centrali a carbone e altri dicono no invece va accelerata e quindi si apre sì un po' forse è una PAC che vista con questa ambizione ambientale è un'ambizione che oggi no non ci potremmo permettere date data vabbè è utile che lo stiamo a dire mi sembra che questo sia l'elemento di dibattito però non volevo parlare di questo perché sennò si va fuori tema come dici giustamente io volevo soltanto dire che vabbè più vado avanti e più quando sento parlare di gradi di libertà di obbligatorietà non obbligatorietà cioè mi va sempre più un po' fastidio cioè sembrerebbe che che noi insomma siamo da un lato obbligati a fare la valutazione o a fare certi indicatori a dare certe risposte ma io invece lo vedo un po' più vado avanti e più lo vedo un po' al contrario cioè sarebbe nostro interesse insomma sviluppare certe certe analisi a me sembra che rimane il nuovo sistema anche di indicatori appunto di valutazione impostato cioè non è ancora ben chiarito adesso al di là del problema della governance perché poi ci buttiamo a parlare della governance è benissimo però la governance dovrebbe dipendere da quello che sono le finità di fondo della valutazione cioè rimane il problema del mandato valutativo scusate se è un discorso un po' teorico cioè valutazione utile e utilizzabile quante volte ce lo siamo detto il mandato valutativo però e lo vediamo anche dal sistema degli indicatori è ancora troppo basato soprattutto a volte anche dall'autorità di gestione sulla capacità di realizzare delle azioni spendere dei soldi raggiungere un certo numero di beneficiari mettere sotto impegno un certo numero di ettari che ovviamente è il primo passo se non fai questo poi non ottiene gli altri effetti e invece poco spostato sugli effetti di queste azioni cioè se noi andiamo a vedere il sistema degli indicatori di out di risultato per esempio ma tutti gli indicatori di risultato secondo me non misurano dei risultati adesso non voglio fare la polemica sono degli aggregazioni degli indicatori di output e il loro confronto rispetto a indicatori di contesto cioè della tua SAO quanto ne hai messa sotto impegno per che ne so azioni favorevoli a adattamento climatico quanto ne hai messa quante sono le aziende di qualsiasi processo coltativo però quello che è poi quello che poi se vuoi interessa all'autorità di gestione interessa all'assessore e su questo si concentra la domanda valutativa casomai chi si chiede al valutatore ma come mai lì non c'è il tiraggio questo orrendo termine che si continua ad utilizzare e là invece c'è no le motivazioni il valutatore entra dice dà il suo contributo però poi ok ma qual è l'effetto adesso può essere ambientale può essere economico sociale cioè questo non entra nel mandato valutativo e qui secondo me entra poi un problema di indipendenza e autonomia del valutatore veramente io sono molti anni che seguo la valutazione e ho sempre pensato che quello dell'autonomia fosse un falso problema perché noi nessuno può durare ma secondo me passa una censura molto più subdola da parte di chi poi ti paga poi in definitiva chi è che paga il valutatore sono le autorità di gestione le regioni o sarà il ministero che non è quello di censurare quello che tu stai dicendo questo forse è avvenuto ma è difficile ma quello di indirizzare il processo valutativo verso alcuni temi alcuni argomenti e non su altri cioè quello che interessa l'autorità di gestione all'assessore eccetera è quanti soldi ho speso quanti beneficiari magari quanti ettari che è giusto ma poi quanto occupazione come è migliorata la biodiversità come quindi entriamo sul livello se volete anche poi più complicato e più difficile ma interessa fino a un certo punto diventa poi così uno studio per gli addetti ai lavori quindi ecco volevo un po' capire ora quali dovremmo capire quali sono le condizioni per spostare secondo me maggiormente la valutazione sugli effetti che è un problema di certamente di buona volontà di capacità del valutatore che deve essere in grado di gestire sta cosa però anche di mandato valutativo e di contesto in cui si realizza ecco questo forse quegli accenni che faceva prima ehm eh Simona sul ruolo del comitato di sorveglianza di queste novità secondo me lì darebbero gli spazi perché sennò dobbiamo affidarci alla come dire alla buona cultura valutativa dell'autorità di gestione che abbiamo davanti che a volte può essere alta a volte può essere bassa scusate parlato pure troppo no grazie Francesco hai detto cose molto interessanti secondo me questo rapporto tra mandato valutativo e indipendenza è un nodo ed è un tema molto interessante potremmo anche svilupparlo non so al prossimo congresso dell'AIV perché è un tema secondo me di grande di grande interesse che può diciamo essere un grimaldello per aumentare l'efficacia del nostro lavoro e secondo me ha a che fare anche a quello al ragionamento che ha fatto Eugenio sulla sull'obbligatorietà perché è vero che nessuno ci censura come dicevi tu però è vero che come dire l'amministrazione in qualche modo ci orienta c'è un rapporto di anche anche positivo diciamo di idem sentire o di lavorare insieme su alcune cose e quindi ci si orienta verso alcuni temi e probabilmente in questo senso l'obbligo ad approfondire gli effetti come li chiami tu i risultati veri probabilmente può quindi fare in modo che non ci si fermi a ciò che interessa alla politica piuttosto che alla pubblicità forse non so se c'è Paolo Lavagnino che lo vedo in video se voleva dire qualcosa perché appunto la sua opinione per noi è molto interessante a parte che lui è responsabile della valutazione e quindi ha anche un punto di osservazione diverso però poi segue con interesse anche queste attività quindi ci fa piacere che ci sia non so volevi dire qualcosa Paolo? Ma sì un paio di riflessioni intanto ringrazio Francesco Lucidi quello che ha detto perché effettivamente molte volte è così è da parecchi cicli di programmazione che mi occupo più a fondo o meno a fondo di valutazione quindi alcune riflessioni vorrei farle due cicli di programmazione fa non potevamo fare una modifica al programma di sviluppo rurale senza che la proposta di modifica fosse accompagnata da una valutazione da parte del valutatore indipendente che supportasse la modifica in questo ciclo di programmazione questa questa esigenza è sparita è scomparsa non c'è più questo obbligo però diciamo anche le autorità di gestione se sono un pochino sensibili ma durano col tempo quindi colto l'occasione favorevolmente di quel suggerimento nella vecchia programmazione per dare più peso agli approfondimenti tematici che vengono chiesti annualmente dal valutatore questo dimostra da un lato che c'è una sensibilità a ciò che viene detto da un soggetto terzo rispetto all'autorità di gestione e dall'altro aggiungerei che c'è anche un'utilità di questi documenti perché arrivano in un momento in cui l'autorità di gestione può fare ancora qualche cosa sulla programmazione in corso la valutazione esposta purtroppo storicamente arriva sempre in un momento in cui la programmazione del periodo successivo è già fatta è già scritta e quindi anche se venissero fuori dei risultati interessanti ma si si combinano con quello che è lo strumento di programmazione per questa programmazione qua che viene completamente stravolta come architettura a più livelli eravamo visti in riunione anche con Simona aveva illustrato quelle tre prospettive avevo fatto un intervento anche allora che forse diciamo era stato inteso ma su questo vorrei ritornarci un attimo sia la scelta di quale dei tre metodi più o meno partecipativi da parte delle regioni verrà individuato innanzitutto è passato già un po' tanto tempo quindi mi aspettavo che magari da parte del ministero ci fosse un pochino più di attenzione a questo elemento anche perché se dovesse scegliere il primo metodo dovrebbe già quasi aver scritto il capitolato per una gara di valutazione vista anche l'entità sugli altri due metodi partecipativi sicuramente ci sarà un'attenzione da parte delle regioni però un'attenzione diversificata a seconda se la valutazione si vuol fare o meglio si si prospetta da parte del ministero per tutti è fatta direttamente dal ministero e da un valutatore selezionato dal ministero oppure se quella valutazione avrà un contributo da parte delle singole regioni oltre al fatto eventualmente che le singole regioni possono decidere autonomamente di dire vabbè la mia parte di programmazione 23 27 e quindi le misure che deciderò di attivare le voglio valutare autonomamente quindi e questo poi incide poi anche sulle risorse che eventualmente potranno essere messe a disposizione quindi ci sono questi aspetti qua abbiamo un'evoluzione del sistema di valutazione del servizio di valutazione dipendente abbiamo notato nel tempo dei valori diversi dei documenti e dei prodotti di valutazione quindi adesso bisognerà vedere un pochino questa qua nuova programmazione se manterrà anche gli stessi prodotti se vorrà fare degli approfondimenti localizzati o altro grazie grazie a te Paolo io come dire ho la fortuna di essere il vostro valutatore anche lo siamo stati anche nella programmazione scorsa e devo dire che non perché appunto sei presente però questa accenno che facevi all'obbligo prima di un'asseverazione diciamo così del valutatore e invece all'attuale non obbligo che però nel vostro contesto nonostante appunto voi abbiate risorse umane limitate nel senso che quindi siete spesso siete in pochi e siete spesso sovraccarichi devo riconoscere la vostra grande attenzione per il lavoro che facciamo noi è una cosa che secondo me non è per niente comune e quindi vi va dato merito l'attenzione al fatto che noi che il valutatore approfondisca questi utili concrete e che siano cioè forse non so se è un pragmatismo ligure però voi come dire ci orientate sempre ci chiedete di indagare degli aspetti che poi abbiano effettivamente un riverbero concreto quindi non so i criteri selezione piuttosto che tu citavi gli approfondimenti tematici in cui ci sono degli aspetti che poi potete immediatamente utilizzare quindi in questo senso appunto dal mio punto di vista il fatto che che voi in futuro come regioni perdiate la possibilità di utilizzare chiaramente non noi un qualsiasi valutatore proprio per supportare le vostre scelte sarebbe un peccato soprattutto perché appunto noi abbiamo notato come tu dicevi da tanti cicli seguo la valutazione probabilmente siete cresciuti anche voi in questa consapevolezza e quindi avete acquisito la capacità di utilizzare la valutazione come dovrebbe essere giusto e ahimè non è non è non è sempre così e quindi in qualche modo la valutazione diventa anche un elemento che vi consente di migliorare il vostro programma in questa programmazione i vostri interventi per il futuro quindi come dire grazie grazie della sollecitazione rispetto ai tempi perché effettivamente se si dovesse fare una scelta piuttosto che l'altra probabilmente bisogna comunque partire in maniera molto rapida perché se si dovesse immaginare un sistema federato partecipato bisognerebbe organizzare più presto i meccanismi osmosi tra le attività che si fanno a livello periferico e quelle che si fanno a livello centrale e anche se si dovesse scegliere un sistema più centralizzato probabilmente per partire all'inizio di questa programmazione che sarà compressa bisognerebbe come dicevi tu avere pronto come dire o rapidamente pronto un bando per la selezione di vista se non c'è intervento magari vi racconto che cosa è venuto fuori da queste indagini che abbiamo fatto con le regioni che appunto non abbiamo sentito la Liguria perché appunto per non sentire solo le regioni in cui lavoravamo noi però devo dire è venuto fuori abbiamo sentito otto regioni quindi tre del nord due del centro e tre del sud è venuto fuori una posizione abbastanza condivisa di come dire anche abbastanza chiara in cui le regioni hanno detto che in qualche modo loro essendo titolari degli interventi dello sviluppo rurale in qualche modo vogliono essere loro a valutarli vogliono essere loro a governare la valutazione proprio perché vogliono utilizzare in questi cinque cicli di programmazione hanno imparato a utilizzare la valutazione come strumento a supporto del processo decisionale e quindi vogliono mantenere questa prerogativa sono anche disponibili appunto oltre ad utilizzare la valutazione per migliorare l'attuazione dei propri interventi anche a contribuire alla valutazione del PSP quindi a valutare anche con dei criteri comuni gli interventi che si realizzano a livello regionale per fornire questo contributo a chi valuterà il PSP quindi diciamo dalle regioni più o meno in maniera unanime quelle che abbiamo sentito noi quindi sono otto sono state come dire una rappresentanza però è venuta fuori questa visione abbastanza chiara devo dire poi non è semplicissimo essere conseguenti rispetto a questa impostazione perché chiaramente il ministero deve fare i conti anche con come ci diceva con gli obiettivi vedremo appunto questo questo atto implementativo che verrà fuori quindi insomma bisognerà in qualche modo essere essere coerenti con questi impostati quindi non è detto che sia semplicissimo impostare questo meccanismo di valutazioni regionali che contribuiscono a una valutazione nazionale che poi dovrà comunque avere probabilmente un valutatore o delle attività diciamo di valutazione complessiva quindi probabilmente ancora da questo punto di vista gli elementi da definire sono tanti appunto accennavo prima che noi stiamo elaborando questa sorta di valutazione ex-an della nuova rete che probabilmente entro marzo vedrà la luce quindi speriamo possa essere anche un contributo ad andare avanti a fare qualche passo in più poi è chiaro che il ministero con le regioni dovrà prendere delle decisioni quello che temo è che un po' perché su altre questioni come il monitoraggio gli organismi pagatori si è un po' indietro quindi come dire probabilmente ci sono delle priorità ancora più urgenti della valutazione quindi quello che temo che temiamo come valutatori che magari le urgenze facciano passare un po' in secondo piano l'urgenza della valutazione perché anche alla luce dell'esperienza dell'avvio della programmazione vecchia in cui non so se ricordate quel fase di avvio che è costato alle regioni anche in termini di capacità di partire rapidamente probabilmente c'è l'esigenza delle regioni e del ministero di correre dal punto di vista dei meccanismi attuativi delle regole di attuazione di monitoraggio di rendicontazione della PAC e quindi la valutazione in qualche modo è come se fosse meno prioritaria rispetto a queste esigenze noi continueremo come dire a farci promotori e a ribadire l'esigenza di una riflessione rapida e tempestiva anche su quello però capiamo che il ministero per il ministero ma anche per le regioni non è facilissimo proprio su questo tema Paolo in effetti l'idea è proprio come rete ecco in questo caso sto parlando proprio con la veste di rete e di fatto ecco abbiamo proprio pensato di farci in qualche modo promotori col gruppo di lavoro appunto sul monitoraggio e la valutazione ecco per riuscire ad avviare intanto questo percorso che secondo me proprio nella definizione del piano di valutazione potrà essere come dire organizzato e concertato insieme alle amministrazioni regionali oltre che al ministero per definire diciamo appunto qual è quello scenario non è un metodo è uno scenario della valutazione della PSP e quindi per definire insieme ecco attraverso un ciclo di riunioni un po' come sta avvenendo come è avvenuto finora anche nella definizione degli interventi è un ciclo di riunioni con le amministrazioni regionali e col ministero per divenire ad una come dire ad un accordo ecco su come su quale scenario ecco applicare su quali valutazioni vogliamo su quali come dire quali valutazioni possono essere delle valutazioni più a livello territoriale che comunque contribuiscano diciamo alla valutazione di più livello nazionale e così via questo sicuramente nei prossimi mesi direi che è un percorso che avvieremo è chiaro che il ministero in questo momento ancora sta ricevendo le osservazioni sul piano strategico ci sono anche gli accordi politici giovedì scorso ancora si parlava di risorse finanziarie quindi è chiaro che ci sono diversi elementi ancora da definire bene ecco però quello della valutazione sicuramente è su questo Vergilio se mi consenti una breve cosa perché riallacciandomi anche a Francesco nel commento di Francesco ma a quello di Paolo è tuo la numerosità delle valutazioni tematiche a mio avviso io ultimamente ho fatto una ricognizione sono 274 280 insomma più o meno queste e insomma non è un numero piccolo eh ragazzi perché alla fine noi avevamo noi mi metto ecco fra di voi voglio dire tra valutazione ex ante valutazioni ex post che non sono nei 280 diciamo così avevamo due rapporti strategici che di fatto erano una sorta di valutazioni una sorta di valutazioni intermedie ecco eppure al netto di queste noi abbiamo fatto una serie di valutazioni tematiche che poi se vado a guardare appunto i temi i topics principali sono tutti i temi di implementazione ecco dei programmi sui quali evidentemente le amministrazioni in piena libertà hanno assunto si sono assunti la responsabilità di esprimere una domanda valutativa e anche di fare il follow up immagino perché sono proprio temi ecco di implementazione ecco dei programmi evidentemente utili sui quali le amministrazioni avevano la necessità ecco di capire come stava funzionando su questo Francesco secondo me c'è stato un po' questo spostamento dell'ottica della valutazione da quando c'è stata un po' l'introduzione del concetto di valutazione ongoing si è spostata un po' l'ottica sul processo di implementazione del programma piuttosto che sui suoi effetti però ha ragione pure Paolo cioè sugli effetti fin quando si facevano valutazioni più orientate a questo c'era la dissertazione ecco sul su come valutare gli effetti e così via come supportare i processi politici e decisionali merito all'implice alla disegno ecco delle valutazioni perché venivano sempre in ritardo come diceva Paolo quindi è evidente che è come dire si è spostata proprio la la prospettiva ecco della valutazione su quelli che sono i temi di implementazione ecco dei programmi che sono quelli più utili diciamo alle amministrazioni coinvolte ecco l'importante al mio viso è fare valutazioni utili ecco la valutazione exposta dovrebbe avere più l'effetto diciamo così politico perché dovrebbe supportare più i processi di politica e di definizione ecco della politica del futuro ma vengono effettivamente un po' più in ritardo era un po' quello che diceva anche appunto Paolo Lavagnino dicendo che negli ultimi c'è stata una grande attenzione agli approfondimenti tematici quindi tu lo dimostravi con i temi perché probabilmente lì c'è come dire si possono orientare più di interesse più utili come diceva Simona quindi sicuramente quello è un segnale di maturità delle amministrazioni che sono cresciute molto dal punto di vista della cultura valutativa non so se c'è qualche altro intervento perché siamo già oltre i tempi prefissati quindi se non c'è qualcuno che vuole dire qualche altra cosa io mi mi avvierei alla chiusura ringraziandovi intanto per la partecipazione perché siamo stati quasi sempre circa 50 partecipanti quindi insomma nonostante appunto la guerra o le tragedie diciamo che ci stanno attraversando come dire l'interesse è stato alto ed è stato anche interessante il dibattito e ringrazio anche le amministrazioni che hanno partecipato perché per noi i valutatori è utile anche il confronto con loro e soprattutto con loro come appunto in questo caso la Liguria Paola Vagnino che hanno sono un po' valutatori anche loro perché dopo tanti anni tanti confronti per noi sono un prezioso una preziosa guida anche dal punto di vista metodologico si discute insieme a loro delle tecniche da fare per noi è molto importante avere il confronto con queste amministrazioni come dire illuminate quindi appunto grazie a tutti non so se Gabriele vuole dare un saluto finale diciamo da presidente soprattutto voglio ringraziarvi per questo dibattito molto ricco partecipato ampio e che dimostra appunto ancora una volta la vivacità del vostro gruppo tematico non soltanto per l'urgenza dei temi ma anche per la capacità dei coordinatori e per l'attivismo dei partecipanti quindi davvero grazie a noi e tutta l'associazione e teniamoci in contatto attraverso il sito perché ci saranno nuovi seminari che come questo potranno stimolare diciamo il dibattito valutativo complessivo diceva Virgilio in inizio l'associazione è anche in grado e prova anche a proporre delle sterzate degli stimoli lo scorso anno scrivemmo insieme a altre cinque società scientifiche una lettera aperta alla presidenza del consiglio per provare ad ampliare lo spettro della valutazione del PNRR e quest'anno avremo un'assemblea il 20 aprile nella quale stiamo cercando di ritornare sull'argomento quindi i gruppi tematici tra l'altro il vostro gruppo tematico è stato protagonista della stesura di questa lettera quindi l'associazione attraverso i gruppi tematici prova anche a svolgere un'azione di advocacy pubblica e il dibattito di oggi credo che abbia portato grandi contributi anche in questa quindi iscrivetevi numerosi all'associazione dato che assolutamente siamo nel momento della campagna ci ritroveremo grazie a tutti grazie a tutti buona giornata grazie buona giornata buona giornata